Ciao! Hai mai assaggiato il formaggio biologico misto di carnia dell'agriturismo all'orcolat sbilfat? È un prodotto unico nel suo genere perché racchiude tre tipologie a latte crudo, il quale proviene dall'allevamento ecosostenibile di capre, asine e vacche a caglio vegetale. Il bestiame pascola nelle lunghe distese delle malghe in carnia, dove si nutre di foraggio ed erbe che vanno ad influenzare il gusto del latte e a rendere poi unico quello del formaggio. Il latte non viene pastorizzato, vengono effettuati solo i processi di lavorazione essenziali in modo da preservare il burro, i grassi e le proteine del formaggio. È consigliato consumare il misto di carnia giovane dai 3 ai 6 mesi per riuscire a gustarne tutti i sapori. Se vuoi vedere i processi di lavorazione e conoscere anche gli altri prodotti dell'agriturismo all'orcolat sbilfat, vieni alle pendici del Monte Tersadia, alla Malvia Valmedan Alta, in occasione di WeFood. Grazie. 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 Grazie.